Domenica 10 ottobre, il quotidiano L'Eco di Bergamo sarà in edicola in un nuovo formato, completamente rinnovato. Più eleganza, più chiarezza, più leggibilità sono le tre parole d'ordine del nuovo eco, progettato da uno studio internazionale di Barcellona, che ha ridisegnato la stampa, il Sole 24 Ore, la Gazzetta dello Sport e alcuni tra i principali quotidiani del mondo. L'Eco di Bergamo ha deciso questa svolta a pochi mesi dal suo 130esimo compleanno. Verrà stampato in formato Berliner, più compatto e moderno, comodo da trasportare e da leggere. Il nuovo eco avrà più pagine e si arricchirà di contenuti, servizi e approfondimenti riuniti in un unico dorso. Caratteristica principale sarà l'uso del colore come un codice che guida la lettura in ogni sezione del giornale, il porpora per la parte generale, le pagine di servizio, il verde per la cronaca locale, l'ocra per la cultura e gli spettacoli e il blu atalanta per lo sport. Per quanto riguarda i contenuti, il giornale darà molto più spazio agli approfondimenti e alle analisi. Il direttore Ettore Ongis, che ha la guida del quotidiano dal gennaio 2000, ha spiegato che il cambio di formato e di grafica non è solo una questione estetica, ma di sostanza. In una stagione di crisi dell'editoria e di grandi mutamenti, per i giornalisti dell'Eco è una sfida a cambiare il modo tradizionale di fare il giornale. È venuto il momento di fare un salto di qualità, ha detto ancora Ongis, senza tradire, anzi rafforzando, l'identità del giornale dei bergamaschi.